MIND THE BRIDGE 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 BORDER Partecipazione alla costruzione di valore del risultato. Ma non lo facciamo perché siamo strettamente buoni. Lo faccio perché è un mondo, il nostro, questo, soprattutto Milano, la consulenza, la comunicazione, il marketing, le ricerche, dentro il digitale, che è vecchio. Gli imprenditori bravi italiani hanno fatto, le industrie, speriamo ne continuino a fare, non hanno fatto dei grossi gruppi italiani. Grossi vuol dire, reply, sono bravissimi, ok, nascono con impostazione IT. Non è il mio mondo, non lo so fare io. Io, come sono arrivata a far questo? Perché ero partita fondando la mia prima azienda quando avevo 23 anni, l'Altana, che continua a esistere, fa 100 milioni, fa vestiti, fashion. L'ho fatta perché non guadagnavo abbastanza rimanendo in università a fare ricerca e non mi hanno preso a farla giornalista. Sconfitta uno, sconfitta due, cambia e inventati un lavoro. E poi, a un certo punto ho comprato DOXA, a debito, era il lavoro di mio padre. Mio padre fa lo statistico, faceva, ora è, anziano, lo statistico. E io volevo, per amore di un sogno, di un progetto, come dire, non perdere un lavoro che era stato per lui tutta la vita. Però, siccome a lui il denaro non importava, aveva l'11% della DOXA e quindi a debito l'ho presa. Però era il 91. Ho lasciato lì le cose, ho continuato a far vestiti in prevalenza finché, intorno al 2007, 8, 9, ho capito che o vendevo una multinazionale o cambiavo tutto e mi buttavo dentro. E così è stato. E così abbiamo mescolato una storia che partiva dalle ricerche, quindi non era frivola, non era superficiale, rimescolata col mondo del digitale. Come ho fatto a imparare? Ho studiato, studio, esploro, faccio ricerca. Cioè, ho ricominciato a fare quello che sognavo di fare da piccola e non mi avevano preso a farlo, anzi, mi avevano preso, ma erano 150 euro di stipendi al mese, 300 mila all'epoca per i bossissi del CNR, i contrattisti. Io facevo storia economica, demografia storica. E allora la storia è ricominciata in termini nuovi. Secondo me c'è un sacco di spazio per farlo. Tu hai detto due volte, dovete diventare bravi a fare qualcosa, giusto? Profondiamo un po' questo punto. Sì, è un punto che è abbastanza... uno dei fili conduttori delle tue storie, perché hai tante storie da raccontare oggi. Uno è, giovani, volete fare qualcosa? Prima diventate bravi a farne un pezzo e poi... cosa potresti dire qua? Volevo dire, gli imprenditori al mio fianco, i soci, i capi e promotori di tutte le nostre aziende, sono persone che spesso io ho portato via dalle multinazionali, o da aziende piccole, o dalle loro storie individuali, in cui però non riuscivano a fare il salto oltre. Però avevo capito quali erano le loro competenze e la loro professionalità. Poi, magari si può diventare imprenditori a 28, a 21, anche a 48 anni. Il tema vero è quanto rischi, quanto ti metti in gioco, quanto non hai paura di lasciare la tua vecchia cuccia, la tana della multinazionale, magari. In cui però non puoi diventare socio di un progetto, hai dei bonus a fine anno, ma tu vuoi, come dire, provarci fino in fondo. Vi faccio un esempio concreto. Banca IFIS, Rendi Max, è quotata allo Star. È nata da un incontro umano, perché Giovanni Bossi, che è l'AD, ed è oggi il terzo socio, forse come quote, non mi ricordo più se è terzo, credo, sì. Gianni, io l'ho incontrato che faceva il ricercatore a 28 anni, in università, e pensava di finire a fare commercialista, perché in fondo avrebbe guadagnato di più. Io lo incontro e discutiamo di macroeconomics, di politica economica, fino alle 3 del mattino. E alle 7 del mattino dopo io chiamo il nostro CFO, che è una donna tuttora, eravamo tutti molto giovani, questa cosa succedeva 20 anni fa, e dico, cambiamo tutto, cambiamo commercialista, prendiamo lui. È giovane, non ha ancora clienti per aria, pronti con noi. Non ne posso più dei professionisti seduti, comodi, che stanno nei rotari di provincia, uno più asino dell'altro. Per cui, provincia o città, cazzo non cambia, bacchiavela, conoscenze, rapporti. Sono Rotary e Lion almeno, facciamo un po' di cose. Non lo so, guarda, mi sto mare. Cioè, allora, e Gianni, cominciamo a lavorare insieme, e ci mettiamo a lavorare con lui. Io, e si mette a lavorare con lui, Sebastiano Fustemberg, Sebastiano è un principe, figlio di Clara Agnelli, ma è una persona fantastica. Sebastiano è l'azionista in maggioranza di Banca IFIS. E anche Sebastiano era un rivoluzionario a modo suo. Morale, tre persone si incontrano. Banca IFIS parte al terzo mercato, parte facendo factoring, continuiamo a fare factoring per le aziende. Sebastiano, qual era il suo drive? Che non lo pagavano abbastanza a lavorare dentro la Fiat. Per cui ha preso e ha fatto un nuovo progetto anche lui. E Gianni è stata la persona che ha costruito la squadra intorno, che l'ha portata dal terzo mercato allo Star, e con cui siamo partiti con l'idea di Rendimax e dei conti online, a due o tre anni fa. Solo che non abbiamo copiato nessuno, abbiamo costruito software interno, competenze interne. Risultato, niente sportelli bancari, raccolta di 2.800 milioni al mese scorso, 65.000 conti aperti, circa, in crescita fortissima, e noi ci guadagniamo tanto. Cioè non è che lo facciamo per fare una roba chic e non siamo a break even, capisci? No, perché in realtà tu gestisci il denaro, lo riappoggi, poi lo rifinanzi all'uno, è una cosa complicata, però funziona. Funziona tutto ed è tutto vero, ci sono 500 giovani che lavorano dentro una villa veneta, no? Che ha la villa di Fustenberg. Che era la villa, ma lui abita da un'altra parte e dice che è felice così. Perché o così, oppure la villa, come si reggeva, come conti, no? È una bella storia, però due punti mi hanno colpito di questa storia. È una storia di 20 anni e quindi molto spesso adesso sono abituato a misurare le cose in mesi e quindi è una storia che è andata a 17 anni su, diciamo, su una sua strada tranquilla e poi ha avuto una specie di illuminazione, di accelerazione. E mi ha colpito quando ho incominciato a parlare da factoring a web banking, che sono due cose un po' diverse. Però avevamo riconoscimento di banca, da banca dei pali. Esatto, avevamo una base di patenza, però c'è stato, e questo secondo me è un alto tratto che vede molte cose che fai. C'è stato un po' un melting pot dei competenzi esistenti. E mi è colpito quando hai detto, non copiamo che banca? No, perché loro a Blackheaven ci sono arrivati dopo. E ci facciamo un software di comunicazione, ma non usando quello di Docs, giusto? No, perché in questo, a parte che non è lo stesso mestiere, poi Docs e il nostro gruppo di ricerche fatturano tanto, fanno decine di milioni di fatturato, margini e tutto. Però io volevo liberare le energie delle persone interne, per cui quando quelli bravi dell'interno che si occupano di web marketing, e di social media mi hanno detto, testiamo un survey, un poll solo su Facebook per costruire il nuovo prodotto Randy Max Plus, che è circa il 50% dei nostri depositi adesso. Io non gli ho detto no a farlo fare a Docs, ho detto, figo, scusa si può. Vai, prova, andiamo, bello, no? Per cui, perché no? Perché poi impariamo anche noi da Docs. Per cui su questo il tema è l'apertura, il tema è coinvolgersi con quelli bravi che magari non sono i tuoi, ma non chiudere, non precludere. Comunque, noi abbiamo anche storie veloci, cioè a Milano io ho raddoppiato i fatturati del gruppo negli ultimi tre anni, che in teoria erano, non io, ho sbagliato, noi, noi, scusate, che in teoria erano gli anni più duri della storia. Non è passato tutto dalla brillantezza di prospettive. Io avevo un fratello dentro in Docs e io ho dovuto mandare via mio fratello perché voleva fare il capo lui e io gli ho detto no, tu sei un bravo ricercatore, ma i capi sono quelli che... avete presente il gioco del rugby? Nel rugby ho un po' di figli che giocano a rugby, altri a football americano, devi passare all'indietro e se non passi ti placano e ti abbattono e ti prendono per le caviglie e ti buttano giù. È magnifico. Il concetto è passare la palla. Quindi, di nuovo, se uno non sa passare la palla e se ha la sindrome del primo della classe, le scuole italiane secondo me sono drammatiche in questo. Perché vinci se non lasci copiare. Vinci se fai così, vinci sulle nozioni. E io non ci credo più a questo. Prima parlavamo... qui parliamo tanto di startup, come se siamo un po' fissati sulle startup. E il motivo per cui ti ho voluto qua è che, con riferimento al tema delle startup, è un modello ma tu vedi modelli diversi. Mi aiuti a capire, o gli aiuti a capire un po' che cosa intendi. Sì, cioè, le startup che io ho visto oggi erano simili in una cosa. Partivano da una serie di prodotti digitali. Super app, o quelle che una volta avremmo chiamato portali, non si possono più chiamare così, con un tema fortissimo di marketing e di modello difficile, in qualche caso più facile, in altri casi di raggiungimento di fatturati e di break even point. Dove la way out è buona se cacci a una grande corporation che ti molla 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni, perché in realtà ne funzionano 2 su 10, per cui se ci hai messo un milione su ciascuna, eccetera. Io non sono capace di capire molte di queste cose, ci arriverò un giorno ma faccio fatica, invece quello che so capire è quello che porto a break even e a profitto in un anno. Lavoro sul B2B e non tocco il B2C, perché ce l'hanno fatta alcuni, Yux, Federico è molto bravo, molti altri non ce la faranno, a fare e-commerce in quel modo lì. Perché di Monte Napoleone e di brand fighi ce n'è uno, gli altri se lo gestiscono da soli in prospettiva. Oppure arriva Amazon e fa piazza pulita di tutta una serie di italiani piccoli. Perché? Perché mio figlio che sta in America su Amazon compra tutto e non capisce perché deve andare a comprare il negozio. Capisci? Per cui è brand, Amazon è brand, e quello che c'è dentro è qualificato dal brand sopra, è uguale a Starbucks. Per cui vai dentro e consumi lì al di là della bontà del caffè. Perché sì, perché è un'atmosfera, perché è un'esperienza, è un'esperienza, si dovrebbe dire tecnicamente. Però, proprio perché le multinazionali o quelli dei fondi mi dicono oh, vediamo l'Italia così, bearish, sapete tutti cosa vuol dire. Vuol dire bear, l'andamento della borsa che gira male. Bullish vuol dire gira bene, bearish gira male. Hai un'enorme opportunità di mercato. Allora, vi faccio un esempio di storie vere. Federico Capeci, che è socio con noi in 2.0 Research. 2.0, ricerche solo web, fattura 2,8, 3 milioni quest'anno, con un margine di profitto bestiale che mi vergogno a dire, con 18 giovani dentro che stanno crescendo a rotta di collo. Federico ha il 20%, Paolo il numero 2 ha un altro 5% e avanti, così. perché esiste, perché in realtà le multinazionali non sono competenti nelle ricerche sul web, perché magari investono in Malesia piuttosto che a Singapore, ce le hanno altrove, non le trasportano in Italia. Però io, di nuovo, sono partita da un'emergenza, o cambiavo tutto, o Doxa mi saltava. E adesso, nei prossimi anni, cambiamo tutto di nuovo, perché i big data arriveranno dagli analytics e non dalla raccolta normale. E quindi magari cambio tutto come modello se mi aiutano le persone intorno. Ancora, non so, Connexia, che fattura 8 milioni quest'anno, Paolo D'Amassa, Giovanni Pola, sono soci nostri, e anche lì il modello era le loro competenze fortissime su social media, web agency, digital PR, però specializzandole e rafforzando da parte nostra tutta una serie di infrastrutture. E' arrivato Pierre Bardoni la settimana scorsa, Pierre, che viene da E-Chart, sta montando con noi Things. Ah, c'era libero The Internet of Things, così l'abbiamo depositato. Perché era libero? E voi direte, roba è da pazzi. Sì, era libero. Costava 26 dollari il dominio. Mi hanno fatto in riunione veloci con la carta di credito, cioè, perché se pensavamo un po' troppo, facevo una battuta a Massimo prima, succedeva come Huffington Post che qualcuno è partito e se l'è cuccato in America e l'ha portato qui. Però era un tema di partire e trattare, non di discuterne sei mesi, in casa, per cui in Italia. Ecco così, e io sono convinta che Pierre, sulla parte web agency, interaction, così via, è una persona bella e grande e ne stiamo portando via altri bravissimi intorno. E insieme a loro ci saranno molti giovani. Poi, chiaramente, abbiamo i 500 migliori clienti italiani, punto, mettiamo in rete i commerciali. Quindi, se devo sintetizzare il modello, dimmi se ho capito. È un modello dove tu metti insieme talento, competenza, preso da fuori, come mi hai detto, le competenze mancano, più quello che è il background, il bacino, che quello che avete fatto può offrire. Domanda pragmatica, che giovani stai cercando e come pensi di attrarli? Che profilo ha il giovane che deve interessare Marina Salomon con un progetto? Ma guarda, giovane, ma giovane, insomma, però, questo è... da noi c'è di tutto nel senso buono, cioè, The Visual Agency, la montata Paolo Guadagni, si è portato dietro 4 o 5 dal Politecnico, neolaureati, che ci ha passato Paolo Ciuccarelli, che insegna Visual Design, ed è con noi su questo progetto, per cui la roba bella sono i 23 anni col capello lungo, così che non alzano la testa, e che per discutere devi proprio andargli vicino a dire ehi, scusa, simile a quello che mi raccontava Massimo accaduto da Job Rapido, che non alzavano la testa, che bello, perché stavano bene a fare quella roba lì e non gliene fregava niente se il capo passava. Allora, vada dal giovane che magari non è neanche andato all'università, che magari è una satanato che studia tutto e rompe con la scuola a 18 anni, perché no? Le storie così esistono al, parliamo adesso di capi, di fondatori, quelli che analizzano il mercato del B2B, della consulenza, del fatto che la McKinsey sul digitale non c'è, che Accenture ha una sua impostazione che è super IT ma non è quella che abbiamo in mente noi e che, cioè, tanto la mia mail è pubblica per cui io rispondo alla gente, magari in ritardo, però accidenti le guardo veramente io, capisci. Che progetto hai in mente sul digitale? Sul digitale? Forse useremo il brand Doxa Digital, forse, ci stiamo arrivando. Tu l'hai scritto e mi hanno scritto dall'interno scusa ma non l'avevamo ancora deciso, ho detto Pifero mi è uscita con Alberto e non gli ho mica detto di non usarlo, cioè, io faccio copia e incolla con il cinghiale. No hai fatto bene, è colpa mia che sono un cinghiale, è così. Allora, stiamo ragionando di integrare l'offerta completa, stiamo ragionando sulle aree mancanti e per esempio ci sono eccellenze nel SEO in Italia che però fanno SEO, ci sono eccellenze nei paper click che però fanno quella roba lì e in realtà nelle aziende ci sono alcuni guru molto bravi alcuni dei quali stiamo vedendo ragionando per insieme a noi costruire questo progetto perché magari si sono stufati di fare i manager e basta e però c'è veramente bisogno di stabilire le nuove guidelines del futuro della comunicazione. Dalle agenzie pubblicitarie non esce quasi niente posso raccontarvi una storia umana io per anni guardavo quelle delle agenzie perché mio ex marito si chiama Marco Benatti e faceva questo lavoro e dicevo boh a me quelli della pubblicità non mi piacciono niente no, non parlo di lui in generale il mondo della pubblicità c'erano delle sole bestiali che giravano e ci ha pensato la storia a punirli e non ci ha ancora pensato accade nei prossimi anni cioè c'erano dei margini così alti che giravano che noi che eravamo quelli delle ricerche che facevamo fatica e c'eravamo a casa ma come si fa? no? come DN diritti di negoziazione over commission roba così ma porca cazuzza allora le multinazionali ce l'hanno fatta le agenzie italiane io pensavo fossero loro che avrebbero preso in mano sta roba e invece ciccia allora pubblicità no per il resto non tocco il media perché appannaggio delle multinazionali e non gli vado contro su questo è un tema dimensionale cioè capisci o fatturi tanto 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 e hai quote di mercato è meglio lasciar perdere tutto il resto mi interessa per esclusione perché sì però non mi metto ad andare contro i hooks non mi metto ad andare contro altri perché di sì c'è un progetto di incubazione di co-working stiamo ragionandoci davvero non mi piacciono le speculazioni per cui io voglio dividere nettamente il profit dal non profit non voglio affittare spazi per fare l'immobiliarista speculatore perché non è giusto non sono io e la gente si schianta capisci abbiamo dei luoghi di lavoro molto divertenti belli piacevoli e andiamo in questa direzione però vorrei integrare progetti di digitale in una situazione in cui noi diamo lavoro alle persone cioè dobbiamo essere per loro un motore di crescita e non devono neanche lavorare solo per noi vorrei mettermi insieme ai concorrenti più bravi su questo aprendo perché tanto nessuno mi appartiene io creo valore se faccio crescere le persone punto un po' di domande mettevo un paio di domande dalla sala eccola Mauro D'Amico Monkey Parking dottoressa Salamon lei ha parlato citando il caso di suo fratello di leadership ok come vede una una leadership all'interno di una start up potrebbe essere una leadership condivisa come ha fatto l'esempio lei oppure diciamo più carismatica con un leader che va seguito sai io mi sto accorgendo che non esiste una storia umana unica alcuni alcuni dei nostri capi delle start up o capi azienda magari io il mio ruolo è di dirgli frena non mordere troppo ti prego non creare paura adoro sentire dal tubo dell'aria che arriva che hai tirato un urlo perché ero così anch'io cioè ho fatto le start up ho organizzato ho dovuto imparare a guidare le persone e ho fatto delle montagne di errori io ero dura con me stessa e lo ero con gli altri e poi come donna finché non ho imparato umanamente invecchiando un po' di robe ero una belva non so come dire dovevo essere più belva degli uomini e vabbè ci stava perché come mi disse Massimo Cacciari una volta il giorno in cui capirai quanto vali romperai meno i coglioni perché no ma me l'aveva insegnato lui vent'anni fa perché adesso siccome magari sei insicura mordi di più del dovuto però questa lezione me la sono portata dietro aveva ragione noi facevamo politica insieme lui e io in giunta a Venezia e mi ha insegnato tanto adesso mordo di meno però tenerezza per chi morde alcuni sono fatti così altri invece hanno il problema contrario e io gli dico hai finito di fare il celeste presidente qualcuno tira giù le parolacce per favore cioè smetti di di essere quello che non decide no prendi responsabilità smetti di evitare i conflitti per favore se no i problemi ti si accumulano no però in realtà io non ho paura delle diverse storie e personalità il tema è che ognuno è se stesso e allora devi costruire insieme la persona che hai davanti qualcuno è un po' troppo intellettuale sognatore e il tema è riportarlo sulla terra e aiutarlo a costruire progetti vendibili prodotti e progetti scalabili vendibili altri venderebbero anche la mamma e magari non curano la qualità fino in fondo sono storie diverse però il tema vero è lavorare vicini e discutere davanti alla macchinetta del caffè o nel cucinone dove da noi arriva il cliente arrivano le persone e fanno le riunioni improvvisate perfetto direi che siamo fuori tempo no abbiamo iniziato al 5 minuti grazie mille Marina e grazie a voi grazie a tutti